L'Occidente, secondo me, ha fatto due errori. Io non sono una politologa, quindi esprimo un mio parere personale. Da un lato si è troppo fidata dell'ombrello americano come la possibilità di chiusura di tutti i conflitti. Dall'altro c'è stato sempre un atteggiamento di disprezzo, di svilimento nei confronti dell'ex Unione Sovietica e della Russia ridotti al proprio regime. In realtà io credo che quello che noi vediamo nella politica estera oggi in Russia sia comunque l'altra faccia della medaglia di una politica interna che da anni è stata fatta e che l'Occidente non ha mai guardato o voluto guardare più di tanto, probabilmente perché commerciali, traffici e tutte queste cose qui sono molto più interessanti dei valori o dei diritti umani. La liquidazione di Memorial, che è avvenuta poche settimane fa definitivamente e un ultimo appello è stato respinto proprio due o tre giorni fa, Memorial ha fatto una grandiosa opera perché ha restituito nomi, fosse comuni, nei luoghi di sepoltura, a moltissime vittime russe, di cui fino adesso era rimasta sconosciuta la morte, anche per i loro parenti. Io chiamo tutto questo un voler cancellare la storia. Cancelleranno anche questa storia? I morti di questa guerra? Cancelleranno qualunque storia, perché per esempio i manuali per le scuole vengono riscritti in modo tale che la Repubblica, la Federazione Russa, l'Unione Sovietica, eccetera, abbia un ruolo positivo. Grazie.